Teniamo ancora vivo l'interesse sulla questione rifiuti anche approfittando della presenza in Puglia della Commissione parlamentare sul ciclo dei rifiuti dopo la tappa Taranto a Bari, l'incontro anche con la Regione. Sentiamo. Dopo prefetti, questori, presidenti di provincia e rappresentanti delle forze dell'ordine di Taranto, Lecce e Brindisi, ieri è toccato al presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, essere ascoltato dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite adesso connesse in Puglia per acquisire elementi di informazione e di valutazione in ordine alla situazione esistente nella nostra Regione. Noi abbiamo rappresentato il quadro reale della situazione del ciclo dei rifiuti in Puglia segnalando i punti importanti che fanno la differenza tra la Puglia e altri territori del Mezzogiorno d'Italia. Il punto numero uno, che nonostante talvolta un certo sensazionalismo, il ciclo dei rifiuti in Puglia non è nelle mani dell'ecomafia. La seconda considerazione, quello che sta ulteriormente accadendo in Campania, dimostra la saggezza, se posso per un attimo mostrare un elemento di vanagloria, la saggezza della scelta della chiusura del commissariamento straordinario dei rifiuti. Perché come si vede in Campania sempre più chiaramente, lo strumento commissariato straordinario, lo strumento emergenziale di governo è ciò che produce l'emergenza. Perché quando hai un'autorità monocratica, hai come conseguenza la deresponsabilizzazione di tutti gli attori del territorio. Perché se comanda uno, è chiaro che tutti, qualunque sindaco, qualunque forza politica, tutti giocheranno a dire no. Perché nessuno vorrà prendersi un impianto, una discarica, un CDR, un compostaggio. E questo naturalmente rende drammaticamente fatale la dittatura camorrista sul ciclo dei rifiuti in Campania. Noi abbiamo fatto partire i cantieri di tutti gli impianti che devono servire a costruire un ciclo moderno dello smaltimento dei rifiuti. Abbiamo nella parte privata tra termovalorizzatori autorizzati e termovalorizzatori in via di autorizzazione un numero complessivo di cinque termovalorizzatori che ci fanno guardare con tranquillità al futuro. Grazie. Grazie. Grazie.